grazie vittorio grazie presidente grazie a tutti voi che siete qua io molto velocemente perché io e perché l'africa insomma l'ha già detto vittorio lo riassumo in tre secondi io sono nasco imprenditore ho fatto sempre l'imprenditore della comunicazione ho fatto politica per per tante ragioni per per servizio tra virgolette ehm l'ho fatta fino ai livelli ministeriali ehm e poi per sei anni ho fatto il presidente di una grossa io sono un po' eriquieto e soprattutto iperattivo ecco non e ho fatto il presidente per sei anni di di una di una delle sette sorelle della bontà che si chiama Action Aid l'ho fatto in giro per il mondo e mh ho capito un po' come funziona il mondo della cooperazione e al termine di questo del mio secondo mandato ero nei Robi con mia moglie e abbiamo deciso di fondare Alice for Children che è una realtà che è partita da zero praticamente una start up come si direbbe adesso una start up della povertà e l'abbiamo fatta mh pensando ai bambini bambini delle baraccopoli perché noi lavoriamo per i bambini delle baraccopoli abbiamo come diceva Vittorio due scuole nelle baraccopoli per circa 2500 bambini siccome però si è anche anche nelle baraccopoli pur vivendo in condizioni inimmaginabili per le persone occidentali ehm nonostante questo ci sono anche più sfortunati anche lì eh sono quelli orfani quelli abusati quelli maltrattati quelli ammalati quelli seropositivi e allora per loro noi abbiamo creato due ortanotrofi nei quali li accogliamo li accogliamo per un periodo lungo perché l'educazione è la base del nostro lavoro là e li accogliamo per un periodo lungo che vuol dire portarli fino al lavoro e siccome il lavoro in una città come Nairobi eh per la gioventù è assolutamente impossibile perché c'è un 60 per cento di disoccupazione giovanile e poi noi siamo privi delle relazioni anche interpersonali tali per trovare il lavoro che per tante per tanti ragazzi sarebbe difficile comunque ebbene per loro loro abbiamo ci abbiamo pensato a lungo perché chiaramente non è bello portarli fuori come dire da una situazione non disagevole ma drammatica e rimandarli in una situazione drammatica nessun padre non ci consideriamo come dire dei nonni insomma di questi bambini di questi ragazzi di rimandarli nella stessa condizione e allora abbiamo pensato cosa fare abbiamo fatto abbiamo fatto gli abbiamo innanzitutto non più mandati alle secondarie che sarebbe il loro liceo per capirci gli abbiamo mandati invece alla scuola di cucina che nota che è pessima peraltro perché credo che il mangiare che nota sia sia l'ultimo della serie delle nazioni ma alla fine dei quattro anni che fanno di professionali chiamiamole così eh di cucina noi abbiamo avuto poi l'idea di costruire una specie di mh master come diceva Vittorio cioè l'abbiamo chiamata Alice Italian Food Academy che sono sei mesi di diciamo di specializzazione di questi ragazzi per fare cucina italiana abbiamo fatto un accordo col Carlo Porta di Milano abbiamo fatto un accordo con i cuochi d'Italia abbiamo fatto un accordo col cucchiaio d'argento insomma ci siamo creati le nostre condizioni di accordo e su queste siamo riusciti a costruire questa scuola di cucina che permette a questi ragazzi dopo sei mesi di scuola di cucina di saper fare bene gli spaghetti e credetemi con gli spaghetti si trova lavoro e noi siamo felici perché abbiamo avuto la possibilità tra spaghetti pizza focaccia di piazzare i nostri ragazzi quindi tutti i ragazzi bene o male trovano un lavoro chi in casa chi in ristoranti chi fa il lavapiati chi è bravo a farlo chef ne ho uno di cui ne vado fiero è imprenditore si è messo su il suo ristorante addirittura insomma per uno che fa questo tipo di mestieri in questa fase della mia vita è una grande soddisfazione io ringrazio Vittorio perché ringrazio anche me l'ha detto lui e quindi io ringrazio tramite lui voi lui sa esattamente chi ha già partecipato alla nostra raccolta fondi che facciamo ovviamente sempre in ogni modo eccetera e lo facciamo per per cercare di sostenere la nostra attività noi facciamo la nostra è una piccola organizzazione per un'organizzazione che guarda come dire al risultato quindi tante parole sì ma guardiamo se riusciamo a avere impatto e l'abbiamo avuto questa è la ragione per cui io conosco l'africa perché l'africa la percorro ormai da vent'anni più o meno quasi tutta l'ho girata chiaramente conosco perfettamente il Kenya e avendo fatto politica avendo fatto l'imprenditore avendo avuto nella mia vita tante vite e tanta fortuna ho pensato anche di come dire mettere a frutto un po' un ragionamento sull'africa perché in questo ragionamento tocca a noi europei e da qui che io parto non parto dall'africa ci arrivo all'africa non vi mostrerò slide perché numeri ve li ho mandati con tramite vittorio in questo piccolo estratto del libro poi se vi interessa lo dico adesso per non dirlo alla fine perché sarei troppo venditore io sono venditore come avrete capito come non troppo venditore tengo anche una rubrica su una canale anzi come si dice su youtube sul quale aggiorno praticamente il libro costantemente con dei video per chi fosse interessato e non credo dopo questa serata perché vi ucciderò con parole numeri ma se lo foste lì potete andare troverete tutti gli aggiornamenti possibili e immaginabili detto questo parto velocemente voi immaginatevi la cartina del mondo vi chiedo un po di fantasia ma vedo che l'avete tutti un po di fantasia guardate il guardate il mappa mondo di fronte a voi ebbene il mondo è tenuto in mano da tre geopoli i tre geopoli sono gli stati uniti da una parte eh l'europa in mezzo e poi sulla destra se la guardate la cartina come la potete la posso immaginare io abbiamo la cina che in asia ebbene questi tre geopoli fanno il 60 per cento del del gdp cioè del pil mondiale praticamente più forte l'america un po meno la cina in mezzo l'europa dico l'europa già 27 cioè senza ovviamente il la gran bretagna che ci ha abbandonati a fine un po un po troppo un po distrattamente diciamo ma ci arriveremo su questo alla fine dell'anno scorso ebbene questi tre geopoli fanno praticamente il mondo gestiscono il mondo tutti gli altri paesi chiaramente si inseriscono intersecano questi geopoli li condizionano li li spingono tutta la fase medio orientale per esempio è particolarmente attiva in questo momento cioè non sono fermi nessuno è fermo però questi tre gruppi praticamente tengono in mani il mondo in mezzo a questi c'era l'europa che era quella che io chiamavo la bella addormentata nel bosco ebbene l'europa si è svegliata questa è la notizia l'europa si è svegliata si è svegliata col covid perché ha dato un colpo di reni da una cosa da un qualcosa che sembrava non si muovesse col colpo di reni che ha dato ha imbrigliato praticamente in un colpo solo i 27 paesi che noi abbiamo perché ci ha costretti a un debito lo dico economicamente a un debito che noi dovremmo saldare praticamente a fine del 2058 quindi abbiamo l'euro da un lato che è la moneta dall'altro abbiamo un debito e questo ce l'hanno anche quelli che non hanno la moneta pari a circa 2000 miliardi diviso tra le varie nazioni che restituiremo man mano qualcosa è gratis ma molto poco il resto viene restituito quindi questa è una ragnatela che terrà dentro l'europa per un bel periodo di tempo e infatti l'europeismo praticamente non è più una condizione da discutere una condizione da sostenere o meglio da cercare di aiutare per farla nel migliore dei modi ma senza geopoli non si può vivere perché non puoi combattere o dialogare o negoziare con l'america o con la cina se non parti da una forza lo dico in trilioni per capirci l'america fa 22 trilioni l'europa senza la gran britannia ne fa quasi 17 la cina ne fa 15 questo è il quadro in questo quadro io do un'altra notizia prima di proseguire l'altra notizia è ma questo mondo si sviluppa o no perché tutti parliamo di sviluppo ogni volta che noi ci parliamo diciamo lo sviluppo bisogna sviluppare bisogna sviluppare ma lo sviluppo è legato molto alla demografia e allora la notizia che che do è che il mondo si sta bloccando nel suo sviluppo non dice ma perché si sta sbloccando si sta sbloccando perché sostanzialmente quello che sta avvenendo nel mondo è che la prossima demografia per l'ottanta per cento dei prossimi nati che saranno circa due miliardi otto tra qua e la fine del secolo ebbene questi miliardi di neonati sono prevalentemente africani cioè l'africa passerà da un miliardo e quattro di africani odierni a quattro miliardi e quattro cioè tre miliardi di essi sono africani e allora questi tre miliardi di africani avranno soldi a sufficienza per incrementare il mondo la risposta è no e poi ve lo dimostrerò con qualche numero raccontato quindi l'economia di fatto non ha molta potenzialità di sviluppo potrà avere potenzialità di sviluppo in alcune nicchie nello sviluppo tecnologico in tantissime nicchie moderne ma diciamo che l'economia considerata come noi la consideriamo un tempo ebbene questo avrà un freno dati li guardiamo subito guardiamo i 50 anni passati dal 1970 ad oggi sono 50 anni sono dati ormai accertati allora il in questi 50 anni il diciamo che il il pil mondiale per capirci è aumentato di la nostra generazione non di tutti ma vedo qua qualche capello bianco la mia generazione quella di baby boomers di fatto ha visto un mondo che si sviluppava per 27 volte cioè il pil mondiale dal 1970 a oggi si è sviluppato di 27 volte e il pro capite si è sviluppato di ben 13 volte quindi vuol dire che noi in questa fase siamo diventati ricchi se proiettiamo questo nei prossimi 50 anni non so solo io che lo dico voglio dire sono tutti gli studi più più accertati ebbene lo sviluppo anche su valori ovviamente assoluti molto più alti sarà intorno a due volte e mezzo tre volte quindi non abbiamo quel boom che abbiamo avuto nel passato non avremo i miracoli economici che abbiamo avuto nel passato ma non abbiamo avuto perché lo sviluppo economico che noi abbiamo avuto è stato praticamente collegato anche allo sviluppo demografico cioè il mondo è passato ha guadagnato praticamente dal nel 50 per per capirci eh eravamo due miliardi e mezzo oggi siamo otto miliardi quindi questi cinque miliardi e mezzo di persone che sono nate in questo periodo ebbene sono assolutamente persone che hanno contribuito a questo sviluppo e questo sviluppo si è tra l'altro saldato un po' magicamente negli anni passati si è saldato in un in un in un in una potenzialità per riprendo dei concetti che per molti sono noti voglio dire che è stata la guerra fredda che noi abbiamo vissuto fino all'ottantanove usa e urs sostanzialmente questi erano i famosi geopoli di allora tutti gli altri in mezzo questi combattevano c'era in mezzo il nucleare tutti eravamo un po' spaventati cioè la battaglia ricordate reagan ricordate corba ricordate tutto questo mondo ebbene questo mondo che combatteva all'improvviso con la caduta del muro chiaramente ha permesso da un lato la grande crescita della cina e dall'altro ha creato la geopolizzazione assolutamente differente che noi abbiamo adesso quindi noi siamo vissuti in una fase in cui la guerra fredda tra l'altro una guerra fredda un po' impari perché gli stati uniti erano ben più forti della russia anche di loro al di là delle armi ebbene in questa questa in questa guerra impari cresceva tutto il economicamente il mondo e noi adesso siamo entrati in una fase in cui abbiamo invece tre geopoli completamente diversi tra di loro li vogliamo vedere velocemente lo dico soltanto per capire perché l'africa poi diventa come dire essenziale in questo ragionamento di essenziale per noi europei prima di parlare proprio dell'africa in senso stretto ebbene qual è la strategia della cina la strategia della cina non è quella di rimanere in africa si è già conquistata l'africa ha preso quello che doveva prendere ha comprato le materie prime ridando praticamente infrastrutture che non funzionano gli africani gli hanno dato materie prime spesso non gliele danno mi sembra lo dico io che sono napoletano so che anche vittorio è napoletano di conseguenza chi è soltanto noi possiamo permettercelo e una battaglia tra napoletani e scampiali cioè tra cina e e africa di fatto sapendo la cina che l'africa non avrà lo sviluppo nei prossimi anni come dire di diventare un grandissimo mercato al di là delle materie prima non ha più interesse ma la cina ha un interesse precipuo fortissimo che non ha come dire possibilità di 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 avere freni deve esportare e non più esportare pacottiglia come ha fatto fino a qualche anno fa ma deve esportare tecnologia cosa cui si sta attrezzando ma soprattutto tutta diciamo la diciamo la produzione di mezzi dai frigoriferi l'elettrodomestici cioè robe che costano e dove le esporta non le può esportare in africa perché i soldi non ci sono se non parzialmente e allora ha inventato questa cosa che ha lanciato xi xi jinping già da tempo voglio dire appena lui è arrivato al potere ha lanciato quella che viene chiamata in termini italiani la via della seta ma qual è l'obiettivo della via della seta cioè una via che parte praticamente dal dal pian piano dal 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 profondo della della cina e via via passa nel nord dell'asia arriva nel pakistan nel porto del pakistan che di cui mi sfugge il nome adesso ma che hanno già come dire allocato e preparato e pian piano prosegue negli stan non li cito tutti perché a parte che non sarei capace ma sono difficilissimi e poi via via arriva fino a creare questa è la sua potenza della sua volontà eurasia questo era il disegno di cui era perché c'è uno stallo in questo disegno c'è uno stallo perché parecchi paesi lungo questa via non sono stati d'accordo nel farlo qualcuno c'è stato tipo il pakistan poi ha dovuto ritrattare e adesso ha dovuto come dire lo stesso primo ministro è saltato proprio per questa ragione adesso chiaramente sono in lotta e anche in contenzioso voglio dire di debitorio di fatto questa via della seta è più difficoltosa di quello che appariva l'india ovviamente ne è contraria i paesi diciamo occidentali nuova zelanda australia giappone giappone non è occidentale ma è occidentale come mentalità di fatto ne sono fuori e la osteggiano però questa è la via che tenta la cina per arrivare da noi in europa con alcuni diciamo doppio giochisti che cercano di farla penetrare e sono parecchi paesi dell'est orban è uno di questi per esempio ecco in questa è la fotografia della cina perché uno dice la cina fa questo ma per una ragione molto semplice la cina ha uno dei più tassi più alti di disuguaglianza nel mondo nel mondo una parte estremamente ricca ma diciamo che più della metà dei cinesi questi non sono dati miei sono dati di picchetti e della weed world inequality site che si trova lo trovate lo trovate sul su internet con grande facilità più del 50 per cento del del dei cinesi vive con 4 mila dollari all'anno parlo di adulti e non sto parlando di di singoli non è un pro capite quindi famiglie più o meno se possiamo dire così con 4 mila dollari ci fai poco e questi qua e questi questa metà che vuol dire circa se ricordo bene a memoria circa 600 milioni di famiglie bene questi degli adulti questi non riescono poi arrivare come dire a hanno bisogno come dire di una cina che si rinforza si rinforza e diventa più forte in termini economici perché la cina avrà sì 15 trilioni ma le divide su un miliardo e 400 milioni di persone che vanno a calare in questo secolo ovviamente però sono sempre un miliardo e quattro diventeranno un e due ma sono sempre un miliardo e quattro quindi vanno sfamati tra virgolette e la cina deve trovare la sua via in questo e in più c'è una via egemonica che a nessuno sfugge che nella battaglia che abbiamo questa è gli stati uniti sono diversi li conoscete li vedete li abbiamo visti in questi giorni ovviamente tutti ne abbiamo parlato però il ragionamento con sugli stati uniti è molto semplice ed è anche un po più difficile forse perché non bisogna anche su questi farsi farsi cioè non bisogna guardare come dire l'aspetto soltanto complessivo gli stati uniti hanno sofferto quella che è stata la crisi della disuguaglianza cioè l'occidente cosa ha pagato in questo in questo 50 anni di tempo ha pagato un prezzo altissimo alla globalizzazione perché ha creato una disuguaglianza infinita in tutti i paesi occidentali allora creando questa disuguaglianza infinita e l'america è la numero uno in questa disuguaglianza ha creato le condizioni per cui la gente si è incazzata l'arrivo di trump nel 2016 è figlio di questa lettura non è figlio di auto perché anche lì l'americano medio che non ha più una classe media che era il nervo poi forte del degli stati uniti la classe media si è impoverita tenete conto che oggi la diciamo la 50 per cento più povero guadagna come nel 1992 cioè non ha avuto incremento se uno guarda all'americano povero cioè il 50 per cento basso della della popolazione americana è gente che non ha soldi che fa spesso due lavori tre lavori precari molto spesso senza assistenza sanitaria qualche volta da paese come dire da terzo mondo io ho un figlio che lavora a san francisco che mi racconta come la vita di san francisco non quella dorata del mondo digitale in cui lui è ma l'altra quella che invece trovi nelle strade sono cose che noi non sopporteremmo nella nostra bella europa quindi l'america è stata questa però l'america ha avuto un attimo cioè ha visto questo non è stata soddisfatta da trump perché quelle promesse america first di fatto erano impossibili da mantenere non si può tornare al carbone ovviamente e lui questo tentava di fare non c'è riuscito ha perso l'arrivo di biden chiaramente apre tutto un altro un altro fronte apre un fronte come dire di riapertura all'occidente di riapertura all'europa con tanti problemi di fronte perché deve riequilibrare completamente l'asia dove ha perso forza e preponderanza tanto che astutamente adesso dico delle tecnicalities ma che non tolgo niente al discorso in questi ultimi giorni prima che arrivasse biden xi jinping non riuscendo a fare la via della città costruito un un no dazzi zone una zona senza dazzi con anche l'australia la nuova zelanda e giappone cercando di soffiare come dire sul filo sul filo degli ultimi degli ultimi metri la possibilità biden inserirsi insomma ci sono ovviamente in tutte le strategie strategie contro strategie non voglio annoiarvi troppo ma questo vi porta all'africa subito scusatemi se se mi dilungo ancora un secondo su questo e questo avviene in un momento praticamente dicevo per gli stati per gli stati uniti in cui ci sono tensioni fortissime ci sono tensioni razziali perché il fenomeno afroamericano non è mai stato digerito dall'america sostanzialmente ed è ancora attivo è ancora forte e l'altro è il problema della disuguaglianza la disuguaglianza è il tema centrale centrale di tutto l'occidente e anche il tema centrale dell'europa per capirci l'un per cento degli americani fa il 50 per cento del reddito tanto per dare un'idea questo non avviene in europa fortunatamente i dati americani del 50 per cento più povero sono pari al 20 per cento del reddito cioè sono cose da terzo mondo perché per vederle bene cioè guardando i dati uno capisce un po come come gira realmente questo mondo poi se uno lo gira lo vede legge capisce non dico che ci va tutti gli anni o tutti i momenti ma però capisce che non è tutto non sono tutte rose quelle che sembrano ecco e l'america avrà grandi difficoltà nel prossimo futuro e poi arriviamo al come dire al 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 nostro paesello che ormai è l'europa l'europa si è fatta l'ho detto prima non è più la bella addormentata ma si è svegliata con un colpo da due miliardi l'ha mutualizzato perché sono sono bond prevalentemente quindi li paghiamo tutti tutti i paesi ne hanno ottenuto un grandissimo vantaggio adesso noi li utilizziamo li utilizziamo per poter pagare un po il diciamo le riforme necessarie per diventare per fare quello che avremmo già dovuto fare che sono sostanzialmente poi tre cose di modernizzazione dell'europa la transizione ambientale quella digitale ovviamente che è indietro rispetto a quella americana e chiaramente una cura maggiore di tutto il welfare perché a differenza dell'america l'europa ha fortissimi a fortissimi a un fortissimo welfare noi siamo di fronte in questo momento in questi anni ci sono le cito soltanto per nome non voglio andare troppo dentro a questo argomento ci sono otto trasformazioni che si intersecano che stanno che possono cambiare anche tutto chiaramente sono quella della disuguaglianza che appena detto che è la cosa più più terribile che noi abbiamo io vi voglio dare un dato perché questo spesso sfugge parlo della ricchezza qui sto parlando dei patrimonio non sto parlando del reddito nel mondo nel mondo 47 milioni di perso di adulti pari allo 0 9 per cento del totale adulti meno dell'un per cento al 44 per cento della ricchezza non so se è chiaro il 2 miliardi e 9 di adulti pari al 60 per cento circa del del degli adulti del mondo ha l'1,7 per cento della ricchezza voi capite che con questi dati ne capite il problema se poi le prendiamo li togliamo dall'africa dove questo è endemico dall'asia parlo l'asia india o cina dove è altrettanto endemico e altissimo come come disuguaglianza ma arriviamo in europa dove siamo invece abituati a essere stati i primi del mondo ebbene questo sulla classe nostra media ha dato una botta indescrivibile e da questa botta voi potete capire perfettamente la situazione politica che abbiamo avuto la brexit che c'è stata trump negli stati uniti orban in ungheria e alcuni fenomeni anche italiani alcuni fenomeni che non sto facendo giudizi politici non voglio entrare nella politica sto dicendo soltanto che ci sono qualcuno può apprezzarli o meno ma non è il mio compito qua oggi non è un dibattito politico però effettivamente sono figli come dire di non sapere più il proprio ruolo di non capire più il proprio futuro e soprattutto di pensare che il futuro dei nostri figli non sarà quello che abbiamo avuto noi poi abbiamo tante altre cose che si stanno accavallando stiamo diventando diventeremo tutti molto più urbani superato in fase del covid lo diventeremo al 70 per cento della popolazione per capirci avremo un'innovazione tecnologica incredibile quasi impossibile da pensare da immaginare adesso i lavori che cambiano il cambiamento climatico un invecchiamento diffusissimo qui vi do un dato per capirci noi abbiamo il 20 per cento di anziani in europa over 64 l'africa al 3 per cento noi nel 2100 avremo il 35 per cento di over 65 l'europa perde 80 milioni di persone tra qua e il 2100 l'italia che 60 milioni oggi nel 2100 sarà 39 milioni voi dite fermiamo questo facciamo figli no è finita non si può più non perché non li facciamo perché il dato demografico parte da lontano non puoi non lo blocchi in vent'anni trent'anni sono processi processi lunghissimi e allora su questo quadretto che vi ho fatto con un'europa che ha tirato fuori un po tra virgolette la sua forza la sua anche le sue forze perché l'europa è forte perché l'europa uno è il far fortissimo alle pensioni migliori del mondo voi tenete conto che altrove le pensioni non esistono a un'istruzione una cultura diffusa a una politica manufatturiera molto alta è una terra di diritti a una moneta quasi unica non in tutti e 27 paesi ovviamente a una democrazia che difficile ma resistente però l'altra faccia della medaglia quella più più difficile foto più in bianco nero sono una popolazione che diventa sempre più anziana una paura infinita dell'immigrazione perché questo è un dato che abbiamo davanti una digitalizzazione che non è ancora ai livelli come dire più avanzati tipo quelli americani un una governance europea che è da ripensare perché non possiamo pensare di tenere in piedi un geopolo con la governance attuale che chiaramente è ancora molto federalista cioè ci stiamo siamo lì a ci sono i paesi ancora che cercano di comandare tra virgolette allora su questo mondo qua arriviamo al punto dell'africa e lo riprendo e con questo poi vado termine poi sono pronto da rispondere a domande o a quant'altro volete allora l'africa l'ho tenuta in fondo perché l'africa ha bisogno di un ragionamento un po suo l'africa è un paese è un paese esplodente io ho ragionato su più o meno su su una cosa come come otto esplosioni la democrazia l'abbiamo appena detta cioè quadrupla praticamente in questi 80 anni però uno dice vabbè diventano tantissimi però consumeranno allora guardiamo i dati dell'africa perché altrimenti non possiamo capire voi li troverete nel vostro io li sto disperatamente cercando sul mio sul mio tablet a fianco non ci sto arrivando scusate eh allora se pensiamo se pensiamo pensiamo ai dati eh l'africa oggi come oggi ha un diciamo un un procapite di millenovecento dollari a testa che vogliono dire cinque dollari al giorno a un diciamo dei livelli di disuguaglianza eh dove non è neanche più l'uno per cento lo zero nove che dicevo prima ma siamo a livelli dello zero virgola zero che hanno il cinquanta per cento delle ricchezze quindi la ricchezza praticamente quei cinque dollari poi diventano un dollaro due dollari per le persone dell'Africa ma se noi proiettiamo questo sul fabbisogno africano tra qua e il duemila cento ve lo dico soltanto in dollari in tasca per capirci da cinque dollari di oggi andiamo ai sette dollari del duemila e trentacinque agli otto dollari del duemila e cinquanta e siamo stati generosi con gli incrementi generosi al nove dollari del duemila e settantacinque inflazione altala quindi questi sono all'ordo dell'inflazione quindi contengono anche l'inflazione quindi praticamente è un è un continente che incrementa tantissimo ma non riesce a dar da mangiare a sfamare le sue persone e un continente fatto da cinquantaquattro uno dice vabbè ma hai visto la Cina cosa ha fatto certo la Cina ha fatto il double digit come si dice nel lavoro ha fatto il double digit ha fatto anche più quindici per cento ma la Cina è una persona che comanda tutti lavorano e poi una nazione queste sono cinquanta nazioni cinquantaquattro nazioni tutte differenti con conflitti tribali infiniti con conflitti religiosi altrettanto infiniti con dittatori costituzionali che non si scontentano i due mandati ma si auto perpetuano per tre quattro sei mandati a vita praticamente dove un gruppo molto ristretto che il cerchio magico che il cerchio magico intorno al presidente al premier al dittatore come volete chiamarlo eh si spartisce praticamente la ricchezza del paese spesso la svendono la saccheggiano la Nigeria che oggi ha duecento milioni di abitanti due ce ne diventerà un miliardo a fine secolo questi duecento milioni il novantasette per cento del suo fatturato del suo fil annuale è fatto dal petrolio il petrolio è tenuto da non so mille duemila famiglie gli altri niente non pensiate che questi soldi vengono distribuiti cioè in Arabia Saudita un po' lo distribuiscono negli Emirati un po' lo distribuiscono in Africa non distribuiscono niente nelle ultime dieci elezioni che ci sono stati tra l'anno scorso e quest'anno sono andati soltanto su dittatori allora l'Africa è questa l'Africa è un groviglio bellissimo un continente ricchissimo di ogni materia prima che voi potete numerare dal famoso cobalto che adesso va di moda ai diamanti all'oro al petrolio a qualsiasi cosa ma la l'Africa non ha sostanzialmente la possibilità di dar da mangiare alle sue persone e l'urbanizzazione africana è vittorio l'ha vista Nairobi quindi la conosce c'è stato una settimana ha guidato in mezzo non lui personalmente nessuno guida Nairobi ci si fa trasportare però là in mezzo è è una è una megalopoli oggi di 5 milioni ma vi do dei numeri per far capire eh che sarà di 26 milioni nel 2050 per capirci io non so dove li mettono perché non riesco a capire già adesso una baraccopoli che è fatta di 500 mila persone la casa media è meno di 8 metri quadrati e la casa è fatta di lamiera e non c'ha la finestra e non c'è il bagno e non c'è la latrina e non c'è nulla e non c'è l'igiene non c'è la sanità non ci sono le pensioni voi sapete quanto abbiamo in Italia di pensioni circa 300 miliardi di euro noi diamo all'anno paghiamo all'anno di pensioni sapete qual è il bagno del Kenya per le pensioni 10 milioni di euro loro hanno 45 milioni di abitanti non abbiamo 40 noi ne abbiamo 60 è vero che non ci sono anziani quindi il problema non è ancora odierno però anche lì gli anziani cominciano a non morire più i servizi sono inesistenti la classe politica quella come si direbbe in inglese unfit quando dico unfit è unfit sul serio non è che è un gioco di parole c'è una classe politica che non riesce a far fare un salto di qualità c'è qualche tentativo adesso per esempio settimana scorsa in Uganda sono andate alle elezioni dove ha vinto Museveni Museveni un signore di 76 anni che ha la quarta rielezione nelle sue quattro elezioni ha combattuto tutta l'Uganda i ribelli al nord i giadisti cioè ne ha fatti di cotte di cruda amato peraltro dall'occidente amato dall'America sostenuto dall'America per la prima volta ha avuto un contendente un signore che si chiama Bobby Wine che è un rapper del ghetto che è riuscito non a vincere ha perso ovviamente ha perso gli hanno ammazzato quattro volte la scorta per per capire il clima e tanto per capire il clima delle elezioni là lui è riuscito a prendere però il 39 per cento dei voti dei secci potrà fare tutti lo guardano con grande attenzione perché si riuscirà non dico a mettersi di traverso un poco ma riuscire a far a far capire che si può fare opposizione perché non c'è opposizione l'acqua là sono posizioni tribali molto spesso ma poi alla fine quando uno vince tutti nessuno anche quelli della sua tribù nessuno gode e continuano a tenere uno per l'inter l'altro per il Milano Juve Torino e Torino e cioè questo è il clima della politica africana allora la domanda che voi vi dovete fare qui vi riporta la prima al primo disegnino che avevo fatto come dire che vi ho fatto all'inizio guardate la piantina voi avete sulla sinistra l'America di cui abbiamo fatto quattro chiacchiere sulla destra vedete la Cina di cui abbiamo fatto quattro chiacchiere in mezzo c'è l'Europa ai cui piedi giace un continente che diventerà di quattro miliardi e mezzo di persone allora è un problema o è un'opportunità a cui pensare la Cina se ne sta andando dall'Africa io dico un'opportunità cioè giro il problema perché se vedo il problema vedo terrorismo vedo invasioni vedo immigrazione vedo tutto quello che uno potrebbe vedere se lo giro dall'altra parte io dico opportunità perché se io uso io io Europa eh perdo 80 milioni di persone avrò bisogno di 80 milioni di persone nuove a fine secolo gli bianchi tanto per capirci saranno un miliardo su 10 miliardi il 10 per cento non pensiate che rimaniamo bianchi tutti quanti noi sì forse ma i nostri figli si andrà verso il meticciato non c'è problema cioè è così sarà così questo non vuol dire avanti tutte porte aperte entrate eh non sto dicendo questo non voglio fare il come dire il buonista o queste parole un po' vuote cioè il problema è che noi abbiamo davanti un problema di forza di lavoro non più soltanto di mano d'opera e abbiamo un problema di mano d'opera qualificate allora come si fa io non ho la ricetta eh io so cosa non si deve fare innanzitutto non si deve fare un piano Marshall per l'Africa l'Europa non deve farlo ma deve fare dei passi deve aiutare le varie nazioni a fare dei passi in una direzione io la direzione la vedo come idea eh non sto cercando di fare il pianetto eh Dio me ne guardi tanto per dare degli spunti di riflessione eh su cui ragionare deve creare un mercato e il mercato si fa portando le nostre aziende ma siccome lavorare in Africa ve lo giuro è difficilissimo ma di una difficoltà infinita cioè puoi farlo se sei l'Enel se sei l'Eni cioè se sei questi colossi ma se sei una aziendina normale è difficile e allora lo Stato dovrebbe aiutarti per i primi anni fin quando tu non capisci come va la situazione e come e come poi pian piano puoi inserirti perché quella roba lì se tu fai arricchire l'economia interna se tu fai arricchire l'economia interna automaticamente si arricchisce il paese e quindi si arricchì si crea un mercato secondo è ovviamente l'educazione la formazione ma non tanto la formazione diamo un po' di educazione di base anche quella bisogna fare ma la formazione dei diciamo universitaria noi abbiamo tonnellate di università a cui e non abbiamo i giovani che ci andranno questo è la realtà europea tonnellate abbiamo tonnellate di intelligenze possiamo farlo via zoom non c'è neanche bisogno di farlo un amico mio che ha la rom business school quella che appena comprata adesso la di agostini aperto a lagos un'idea intelligente formare formare e importare formare e creare le condizioni di un'immigrazione regolata coerente fatta bene è fattibile sì se l'Europa lo prende come come suo non non l'Europa che litiga coi paesi le barchette non questo è tre a te due a Malta tre da un'altra parte questo non lo prendo neanche in considerazione questa non è immigrazione si può fare un piano immigrativo complessivo sì si può fare si può regolare con loro i conti sì si può fare se l'Europa vuole si può fare perché le condizioni perché molte dell'interscambio è fatto con l'Europa non è fatto con gli altri paesi da parte dell'Africa e allora questa è una cosa fattibile e poi si può scegliere anche i paesi allora uno dice ma sono 54 paesi sono troppi come cavolo si fa bene sappiate che 14 paesi fanno l'82 per cento del PIL del PIL africano a proposito sapete quanto è il PIL africano nessuno lo sa e due trilioni e sei cioè meno della Francia cioè tutta l'Africa questa cosa enorme che voi vedete questi 54 paesi questa roba che tutti quanti dicono l'Africa questi miliardi di persone vivono come se fossero francesi con il PIL della Francia un po più dell'Italietta nostra un 15 per cento più dell'Italietta nostra cioè nulla per l'estensione per la grandezza della cosa per le infrastrutture che non hanno ecco uno dice ma non hanno infrastrutture e te credo con niente non le fai e allora uno però può scegliere perché 14 paesi di quei 2.6 trilioni l'82 per cento è fatto da 14 paesi uno lavori inizia a lavorare con questi gli altri si aggregheranno e quindi si può scegliere dove andare e poi c'è l'ultima cosa e con questo termino bisogna essere molto chiari con la politica perché quella che vi ho accennato prima adesso non ve l'ho raccontata nel dettaglio se chi è interessato a questo ci ho fatto proprio un video su tutte le ultime lezioni se lo veda perché è impressionante capire quello che è successo in questi due ultimi anni non sto guardando e uno neanche le sa che ci sono le lezioni lì per capire cosa è avvenuto ebbene allora la domanda che io mi faccio da europeo che porta i soldi là e ne portiamo tanti sia come industrie sia come aiuti sia in mille modi è costringere l'unione africana che le costituzioni non possono avere più di due mandati con due mandati una persona dopo va a casa lo fanno negli stati uniti lo possono fare anche in africa io capisco che è difficile perché non fate dirlo fate una cosa e farla però questa è una micro decisione che senz'altro potrebbe passare e poi bisogna creare leadership alternative aiutare culturalmente obama ha fatto tra le sue non ha fatto una fondazione ha fatto una cosa tra le cose che fa non so cosa fa in america oggettivamente ma ha fatto una cosa in africa che è intelligente ha messo in piedi una scuola di leadership a Johannesburg e ogni anno ne tira fuori un 300 certo non servono a nulla 300 come dire un miliardo e 400 milioni di persone però sono semi buttare semi in questo mare che è pronto a prenderli io credo che sia l'unica chance che noi abbiamo allora se noi costruiamo un po più di buona politica nel tempo e non domani mattina se costruiamo un'immigrazione come dire necessaria perché ne avremo bisogno qualificata anche se scegliamo i paesi giusti in cui lavorare se creiamo un mercato interno là che gli possa dare ricchezza noi ci arricchiamo non colonizziamo eh noi ci arricchiamo e diventiamo un geopolo che controlla quattro miliardi di persone noi rimaniamo 450 milioni io un pensierino ce lo farei è un ragionamento su cui da fare è un ragionamento su cui pensare se non per noi per i nostri figli e su questo sono disponibile a qualunque domanda a cui cercherò di dare una risposta sperando di non avervi addormentato ovviamente grazie l'Asia oggi fa 30 trilioni l'Asia eh sul Pacifico ho preso la Cina 30 trilioni di un terzo del prodotto interno l'olto del mondo più o meno però questo il 50% degli adulti di questo che fanno questi 30 trilioni guadagna 2.917 euro all'anno contro i 35.000 più o meno europei e i 40.000 americani cioè questo l'India voglio dire si è sviluppata tantissimo si è sviluppata in maniera effervescente gli investimenti sono prevalentemente di Stato però il livello ancora di povertà è alto tutta l'India tutta la Cina hanno livelli di povertà ancora altissimi sull'Africa l'Africa è molto meno dell'India ovviamente molto molto meno perché il 50% diciamo meno più povero mi sembra che faccia intorno fa quasi niente fa veramente lo cerco poi ve lo dico fa neanche mille dollari fa sotto i mille dollari però la domanda è e la pongo a chi è europeo noi li abbiamo qui sotto cioè a 100 chilometri dalla Sicilia c'è l'Africa e avendoli sotto noi ne abbiamo da un lato come dire il problema dall'altro ovviamente l'opportunità chiaro che uno è andato in Libia per cercare di portare a casa il petrolio poi andato in Egitto per cercare di fare l'accordo ancora sul petrolio però questo lo fa l'Eni lo fa l'Enel lo fanno le tre grandi che abbiamo il punto è che l'Europa dovrebbe dire prendiamola cioè c'è una marcia verso l'Africa e allora tutto cambia ci saranno quelli che iniziano per primi vi cito una cosa tanto per capirci lo pongo in un altro contesto ma è un esempio vado all'epoca diciamo vittoriana un certo che allora all'epoca vittoriana che sono 120 anni fa e non sto parlando di milioni di anni fa quando la Gran Bretagna era numero uno nel mondo come Peel un signore un certo Stacy Rhodes andò a fare il pastore in Sudafrica poi la leggenda dice che ha dato un calcio a una pietra poi quell'altra pietra è stato un diamante il fortunato si direbbe ha costruito la De Beers va bene poi siccome era anche ambizioso ha detto ma io con con questa roba qua che vedo che qua ce n'è tanta posso fare qualcosa in più allora ha preso allora non c'era l'aereo ma ha fatto una lunga credo cabalcata o via nave non so cosa abbia fatto è andato dalla regina Vittoria ha detto guardate che là c'è un sacco di soldi cosa facciamo come facevano con i corsari la regina gli ha detto vai e fai ti do l'idea di che sei il governatore di quello che prenderai lui ha truffato un po' di persone nel luogo e ha costruito la Rudese del Sud oggi Zimbabue e si è fatta la Rudese del Nord oggi Zambia guadagnando ovviamente cifre infinite lui personalmente ma creando due delle colonie più ricche all'epoca per gli inglesi quella era l'epoca coloniale questa era una persona allora non dico questo è un caso voglio dire un caso di storia però andare non dico in questo modo ma aiutare costruire creare anche con le proprie forze essendo aiutati dai paesi europei io penso che sia una cosa fattibilissima pensando che tra 10 15 20 anni quelli che sono lì che adesso hanno i mille dollari ne potranno avere 2.000 3.000 4.000 e facciamo dell'Africa quello che è stato lo sviluppo diciamo asiatico almeno asiatico e allora tutto si riequilibria perché quel 2.5 di sviluppo mondiale nei prossimi 50 anni può diventare il 4 il 5 il 6 non il 27 volte che abbiamo avuto negli ultimi passati 50 anni ma può crescere di parecchio una potenzialità di un accordo di questo tipo per arrivare anche noi a pensare di concorrere ad avere una maggiore egemonia nel mondo perché noi bene o male come europei abbiamo cultura abbiamo una cultura democratica abbiamo una forza una forza direi di base che non ha nessuno al mondo meglio dell'America e meglio senza altro della Cina e allora se uno deve avere ambizioni bisogna averle ampie se l'Europa si pone l'ambizione di essere come dire il leader del mondo se lo deve porre ma lo può fare soltanto nelle condizioni lo può fare in mille modi ma la condizione africana non può dimenticarla ecco diciamolo così non è che la mia ricetta sia la ricetta ovviamente non sono così come dire non vorrei essere così tranciano ambizioso ma lì c'è una potenzialità infinita invece io vedo una potenzialità infinita è chiaro che bisogna avere un disegno un po' ambizioso un po' complesso un po' che oggi l'Europa non può forse neanche avere perché ha una governance ancora povera però le persone con cui ho parlato che sono in quella governance devo dire che non sono lontane da quello che io sto pensando non ho trovato nel parlare di queste cose come dire persone che mi hanno detto ma tu sei pazzo vi posso documentare con le lettere che ho ricevuto devo dire sono rimasto anche stupito lettere nel merito l'ho mandato ovviamente in libro in inglese a tutti i capi di stato l'ho mandato alla commissione l'ho mandato non per farmi come dire è un'idea dibattiamola ho avuto risposte serie di gente che se non altro ha letto il primo capitolo non dico che se l'ha letto tutto ma ha capito di che cosa stiamo parlando e tutti quanti come dire mi hanno detto il tema è all'ordine del giorno quindi non sono isolato in questa cosa qua non sono un povero pazzo che va in giro dicendo facciamo Euroafrica e io faccio il canale su YouTube penso che possa essere una delle vie che l'Europa ha davanti per poter diventare un geopolo come dire egemone ma egemone per democrazia per diritti per cultura perché lo siamo stati poi nel passato quindi ci riprendiamo quello che avevamo concordo che c'è un impoverimento di leadership figlio un po' di una democrazia fragile che noi stiamo vivendo perché la riflessione che facevo recentemente è che le democrazie sono in netta minoranza nel mondo cioè le democrazie sono fatica le democrazie vuol dire mettere d'accordo tanta gente interessi contrastanti posizioni differenti un'antipolitica crescente una classe media incazzata cioè è difficile però io ho un segnale ho segnali di ottimismo cioè guardando anche nella nostra povera Europa vedo poi situazioni come tipo Germania che è un grande leader facendo una grossa coalizione cioè mettendo insieme i due partiti più grossi è riuscita a tenere ferma diciamo le basi democratiche la Francia si è inventata Macron a modo nostro anche noi ci stiamo inventando delle cose le inventeremo anche dopo la crisi di governo di stanotte o di domani mattina cioè è resistente la democrazia nonostante le difficoltà e la fragilità che noi attraversiamo troviamo qualche leader che possa venire fuori forte che possa avere una visione dell'Europa grossa io credo io ho questa speranza non lo vedo in questo momento ma ho questa speranza perché noi stiamo passando la fase forse più difficile della democrazia attuale è facile dire la comanda uno fa tutto lui che è la Cina sostanzialmente ce n'è uno tutti zitti però c'è anche l'altra faccia della medaglia che quando salta quell'uno salta tutto non so come dire ecco da noi questo non può avvenire e devo dire che noi siamo riusciti in questa fragilità a mantenere a mantenere le come dire il cammino nei binari ecco verrà fuori io ho questa sensazione perché non può non venire fuori l'opportunità è talmente grossa che non può non venire fuori per l'Europa intendo non sto dicendo dell'Africa poi l'Africa è un di cui di questa visione cioè se l'Europa diventa veramente un forte geopolo allora lo dico diversamente chiedo scusa della divergazione lo dico diversamente per spiegarmi quando io stavo scrivendo il libro io pensavo che questa avvenisse ma l'Europa era e l'ho chiamata proprio la bella addormentata nel bosco perché era io l'ho iniziato quando era quasi pre-covid quindi non non poi l'ho terminato durante il covid ma non non c'era durante il covid l'Europa si è fatta l'Europa ha tirato fuori come dire una forza e ha superato delle resistenze che non le avrebbe mai mai fatte vi ricordate noi eravamo l'Europa dell'austerity con la Merkel a capo a proposito allora il concetto è che noi abbiamo rivoltato quella vicenda nel giro di un mese quindi come abbiamo fatto quello noi possiamo pensare di poter diventare di pensare di diventare un giorno il geopolo più importante oggi non lo siamo perché ci manca tutta la parte tecnologica in cui noi siamo veramente molto indietro ma se entriamo bene nella parte tecnologica e digitale e sulla parte delle nuove energie io credo che noi possiamo fare quella parte lì o speranze poi concordo sulla visione speranze non faccio il futurologo ma faccio Magotelma qui non vorrei alla fine della serata abbiamo sentito Magotelma non lo sono non crediate cerco di guardare alle cose con un po' di distacco con un po' di serenità non so dire sull'Italia perché io credo che l'Italia allora diciamolo meglio l'Italia ha senz'altro può avere una grande funzione in questo disegno perché l'Italia ha una conoscenza dei paesi diciamo del Mediterraneo che non ha nessuno ripeto noi siamo a 100 chilometri da Tunisi quindi da Tunisi insomma dalla Tunisia non dico che li facciamo a nuoto ma insomma quindi noi abbiamo una conoscenza anche storica voglio dire da sempre noi siamo stati come dire con l'altra parte del Mediterraneo abbiamo dialogato quindi sulla parte nord noi senz'altro siamo forti chiaramente sulla parte francofona che sarebbe la parte guardando la piantina quella che viene chiamata Africa occidentale che è quasi tutta francofona salvo la Nigeria lì è la Francia che fa la parte del Leone anche se ha delle difficoltà infinite sta perdendo nel Sahel non riesce a chiudere la la battaglia jihadista che si è iniziata tutta questa parte è assolutamente come dire musulmana terroristica tra virgolette confina con Bokaram voglio dire è un'area molto difficile dove la Francia non sta per adesso vincendo poi nella Francia tutta l'altra parte dell'Africa che essendo più di matrice inglese perché l'Inghilterra aveva da quasi tutto in Sudafrica non tutto perché non l'ha preso ma da Sudafrica arrivava fino all'Egitto ebbene tutta quella parte lì è chiaramente una parte un po' più abbandonata perché non credo che l'Inghilterra dopo la Brexit riuscirà poi ancora a esprimere una forza di sì c'è ancora alcuni sono ancora del Commonwealth ma nominalmente quindi noi abbiamo una potenzialità abbiamo una potenzialità anche perché anche noi essendo ormai un paese esportatore 35% della nostra pilla è esportazione dovremo ancora aumentarlo se vuoi perché gli consumi interni non stanno alzandosi quindi credo che l'Africa noi dovremmo aggredirla tra virgolette quindi un governo italiano attento a questa questa vicenda che sto io raccontando adesso dovrebbe aprire come dire dare la possibilità con le confindustri del caso aprire veramente a mercati africani difficilissimo a cui sinceramente ho difficoltà a rispondere però ho anche facilità perché è altrettanto vero che ci sono talmente tanti miliardi in giro per il mondo che basta creare le leve per poterle prendere cioè non è che il mondo privato qui ci sono due scale differenti su cui ragionare l'indibitamento pubblico che è altissimo l'arricchimento privato che è altissimo credo l'Italia per senza andare lontano noi abbiamo 2.6 trilioni di debito pubblico pari al 165 mi sembra che oggi sia il 165 per cento nel rapporto col PIL però abbiamo 10 trilioni di ricchezza privata 6 di questi sono in immobili 4 sono in azioni e imprese quindi noi siamo ricchissimi siamo quasi 5 volte il debito che abbiamo come privati non dico che il privato deve finanziare lui non in quel senso lì che dice prendo benissimo prendo l'amico Rod se si Rod gli do i soldi e lui va a prendermi un pezzo d'Africa questo no però attraverso un sistema come stiamo facendo adesso per esempio col Covid attraverso gli Eurobond noi siamo in grado di poter finanziare qualunque cosa noi italiani e noi europei perché tutta l'Europa è ricchissima molto più ricca dell'America l'America è ricca nella parte apicale voglio dire perché l'1% americano è ben più ricco dell'1% europeo però poi dopo scendendo no e quindi l'Europa ha questa potenzialità immagino che si possa far così non sono un alto economista sono più un aritmetico cioè divido e moltiplico però mi sembra che sia fattibile perché poi i ritorni sono altissimi se van bene sono ben più alti che non comprare due azioncine della borsa di Milano ecco